Continuano gli appuntamenti territoriali tra i comuni compresi nell'area del Mercure, Altosini e Valsarmento. Comuni che fino a qualche anno fa non avevano un trade union, ora invece si trovano a ragionare insieme su come utilizzare le risorse che hanno a disposizione. Sviluppo e competitività al centro dell'incontro tenutosi a Senise, al quale hanno preso parte non solo i sindaci delle aree interessate, ma anche imprenditori che hanno deciso di puntare sullo sviluppo del territorio per renderlo competitivo. Incontri utili a raccogliere le idee e capire così le strategie da mettere in piedi. Idee che dovranno essere alla base di un primo documento, la bozza di strategia, che verrà redatto e condiviso da regioni e territori e che porterà alla sottoscrizione di un accordo di programma. La strategia per le aree interne coinvolge 42 comuni lucani, compresi in quattro aree della Basilicata, ed è nata per guardare in maniera più attenta quei territori che negli ultimi decenni sono stati protagonisti di uno spopolamento vistoso e di carenze nei servizi. Questi riceveranno dei finanziamenti dai fondi comunitari, ai quali si andranno ad aggiungere degli stanziamenti fatti dal Governo nazionale. Ogni area interna avrà diritto infatti ad avere una dotazione di 3.700.000 euro.